Il sindaco Diana Frontini consegna al magistrato pontificio del corteo storico la mazza argentea simbolo del potere temporale. Il spqv è sormontato dalle une di Viterbo, è possedita nell'ufficio privato del sindaco. Il potere temporale del pacato ed era sempre presente in tutte le manifestazioni solenni dai magistrati ed ai dignitari ecclesiastici. Grazie per la visione!